buongiorno mi chiamo marco rea maglia sono un creativo questa è la denominazione del mio lavoro ma in realtà il mio lavoro principale quello di essere un parrucchiere però un parrucchiere anomalo perché ho messo insieme da ormai 40 anni quindi dai dalla fine degli anni 70 le mie passioni le mie passioni che sono prima di tutto la musica quindi venendo da storie musicali che suonavano un gruppo e poi lavoravo in un grande negozio di musica di milano ho messo questa mia passione a in uso nella mia attività quindi la passione della musica è quella della grafica quindi queste tre creatività interessanti quindi tagliare i capelli che vuol dire non soltanto tagliare i capelli ma vuol dire incontrare gli esseri umani parlare con le persone incontrarsi ogni giorno raccontarsi ma soprattutto ascoltare gli altri mi dava e mi ha sempre dato il riempimento esatto per la mia creatività quindi ho iniziato molti anni fa nel 1978 ad aprire il primo spazio da milano sono andato a vivere a bologna dove appunto ho creato questo spazio molto innovativo perché a quell'epoca non esistevano luoghi in italia dove nello stesso punto si potevano fare capelli alle ragazze come i ragazzi quindi ho messo ho tolto tutte le barriere e ho creato questo primo spazio e subito ho avuto un grandissimo successo anche un grande scandalo perché i giornali parlavano di questa cosa che succedeva perché nei miei saloni venivano molte persone di tutti i tipi di tutte le culture del mondo dell'arte del mondo della musica del mondo del fumetto del disegno quindi queste persone giorno dopo giorno rendevano sempre più importante il mio salone una delle cose che ha fatto la diversità del mio brand è stato appunto creare i loghi quindi ogni anno noi creavamo un logo con il nostro nome abbinandoci a delle grafiche innovative quindi con quello creavamo le magliette le t-shirt i gadget un po di tutto insomma ci si divertiva molto perché gioca in realtà giocavamo e non pensavamo che quello sarebbe diventato poi una tendenza una moda una cultura pensiamo soltanto che per esempio io quando metto il logo orea maglia il nome del mio salone dei miei negozi non ho mai scritto sotto hairdresser non ho mai scritto parrucchiere senza nulla solo orea maglia che faceva creava alle creava nelle persone curiosità quindi chi tutti chiedevano cos'era questo nome molti non sapevano cosa voleva dire e molti volevano sapere che cos'era questo questo nome e così giorno dopo giorno hanno scoperto che quel nome era legato a un parrucchiere un'altra cosa che avevo intuito in quell'epoca era che era molto divertente creare con i loghi che noi facevamo adesivi e quindi gli stickers e questi stickers i giovani li attaccavano alle vespe alle macchine e giravano per la città tranquillamente facendoti pubblicità gratis quindi senza essere pagata invece di creare i manifesti attaccarli spendere molti soldi quello era un modo giovane che ti faceva conoscere e faceva parlare di te da sempre fin dall'inizio del mio della mia attività si sono interessati a me molti personaggi del mondo della come dicevo prima della moda della cultura io già venivo da milano quindi ho sempre lavorato nel mondo della moda lavoravo per i grandi redazionali in giro per il mondo viaggiavo moltissimo quindi quando aprì il primo negozio a bologna a 21 anni avevo già un grande curriculum con me quindi lavorando per vogue amica gioia grazia molti giornali inglesi ho lavorato per id the face quindi grandi giornali che erano la tendenza ho portato a bologna in una città di provincia diciamo la grande novità quindi la moda l'energia il ritmo nell'aria e questo ha fatto sì che molti giovani di quell'epoca si sono interessati a me giovani che allora erano sconosciuti come non so maurizio cattelan che poi è diventato un grandissimo scultore un grandissimo artista che aveva preso il mio il mio spazio veniva nel mio negozio come se fosse un bar tutti i giorni veniva tutti i giorni provava anche a cercare di vendere le sue opere uguale moltissimi personaggi del mondo della musica per esempio in italia uno dei il mio cliente più importante si chiama vasco rossi ed è venuto da me proprio giovanissimo un giovane cantante che all'epoca faceva il dj sconosciuto e mi hanno proposto di il suo manager di allora mi ha proposto di creargli l'immagine e da lì è venuta fuori una buona idea del del creare un'immagine stilistica rock molto spontanea molto divertente molto esagerata poi per quell'epoca lì pensiamo che siamo in un'epoca erano gli anni 80 dove gli anni 80 erano molto stilosi cioè i giovani si pettinavano seguivano i gruppi musicali come i duran i durandurani spandau ballet terence trendarby boy george invece in italia vasco rossi voleva fare il rock and roll americano un po californiano quindi lui voleva essere un ragazzo un giovane naturale e così è stato e quell'immagine l'abbiamo portata avanti per 40 anni fino a quando dieci anni fa abbiamo deciso di cambiare completamente quindi di girare pagina e di creare un'immagine nuova e oggi vasco rossi ha il capello molto rasato una bellissima immagine io poi lo seguo da sempre quindi è anche un carissimo amico e grazie a lui che con lui lavoravo per molte cose molte molti video musicali molti altri manager di case discografiche mi proponevano ogni giorno personaggi importanti da seguire infatti non è non solo ho avuto ho lavorato con moltissime star italiane ma anche internazionali appunto come i duranduranto naturalmente i nomi ci sarebbero tantissimi nomi da fare ma i nomi più di tanto non non dicono nulla perché in realtà il mio mestiere veramente se fai il mio mestiere con amore sono le persone che vengono tutti i giorni gli sconosciuti che ti fanno crescere sempre di più i nuovi giovani i giovani che arrivano dalle periferie ti danno ti regalano idee nuove si tagliano i capelli da soli sbagliano il taglio dei capelli e da quello da quell'errore viene fuori una nuova tendenza no questo è sempre stato il mio punto di vista il saper osservare cosa succede cosa succede in tutti i mondi no che non è soltanto siccome faccio il parrucchiere guardare i tagli i tagli di capelli quindi i cataloghi con i tagli di capelli no quelli non se sono sui cataloghi perché sono già vecchi per me invece sono sempre è sempre nuovo osservare dialogare con le persone col mondo della cultura con io lavoro con tantissimi giornalisti scrittori artisti veramente di altissimo livello che oggi sono diventati di altissimo livello ma quando ci siamo conosciuti con molti di loro molto di loro erano dei giovani assolutamente alle prime armi però la vita di del mio mestiere è proprio il fulcro è proprio questo cioè il dialogo con le persone conoscersi incontrarsi e mettere insieme il tutto questo credo sia la ricetta per il successo l'apertura mentale cioè il vedere il mondo osservarlo andare in giro per il mondo andare in cina e guardare i panni stesi delle divise blu dei militari che hanno perso il colore negli anni perché hanno l'unica divisa lavata rilavata diventa un colore nuovo quello è un modo nuovo per vedere la moda per gli stili ed è importante saper appunto visitare questi luoghi diciamo un po più sconosciuti non andare dove vanno tutti ecco se io non ho mai consigliato a un mio giovane collaboratore di andare a fare corsi di tagli di capelli da un noto parrucchiere perché quando tu vai dal grande parrucchiere è già una cosa già vissuta è una cosa già non è più la veramente la novità proprio per questo invito tutti a guardarsi attorno a guardare attraverso magari le sfilate guardano le sfilate ma non di stare a guardare con precisione quella cosa bisogna guardare l'idea lo spunto quindi il nuovo viene da quello